...fascista, a seguito chiaramente dell'istituzione, dell'associazione degli iniquilati unitari di guerra, che si subito a ridosso della guerra, anzi in guerra ancora, prima guerra mondiale ancora in conto, si costituisce, proprio perché, come sappiamo bene, la prima guerra mondiale ha faciliato, ci sono stati circa 9 milioni, 10 milioni di anni, e quindi l'Italia...